Si chiama Belinda Norton, è una donna di 41 anni di età. Ha due figli e sembra più giovane di quando aveva solo 20 anni. Le foto su Instagram dimostrano tutto ciò. La donna infatti dopo aver avuto due figli appare in forma smaiante. Ciò che colpisce di lei è che sembra davvero molto ringiovanita. Lo dimostrano soprattutto le immagini che sono state pubblicate di recente su Instagram che la vedono completa protagonista. Dopo essere diventata una sorta di guru del fitness, la donna ha deciso di disvelare alcuni dei suoi segreti di giovinezza, di bellezza. Molti intuibili, altri un po' meno. Il notevole miglioramento a livello estetico è merito anche di uno stile di vita che ovviamente è sanissimo. Oltre a questo anche un'attività fisica equilibrata, una dieta salutare, ma non solo. La donna si è confidata e avrebbe dato i suoi segreti. Alcuni, ripeto, intuibili, altri un po' meno e avrebbe detto Per stare in forma non serve mangiare meno, ma mangiare meglio e fare molto esercizio. Non contano le calorie accumulate, ma è senza reparare il più possibile la dieta. A questo abbino sempre dei messaggi perché insieme allo sport aiutano a tonificare il fisico. Inoltre è importantissimo bere tanta acqua ed è anche possibile concedersi un bicchiere di vino a pasto, ma consiglio di evitare altre bevande alcoliche oppure troppo zuccherate. Belinda ha tanti segreti, molti sono sorprendenti e avrebbe poi aggiunto Ricordatevi di struccarvi sempre, i cumbo e i trucco fanno male alla pelle. Evitate anche di bere con le cannucce perché formano dell'aria che può invecchiare le vostre labbra. Dormite il più possibile, cercate di non andare a letto tardi, evitate di usare lo smartphone prima di addormentarvi. Può disturbare il vostro sonno, meglio un buon libro prima di addormentarsi. Beh, trucchi insomma che potrebbero davvero fare bene. La donna infatti, ripeto, che mostra un fisico imponente a livello estetico, sexy e smagliante. Un chiaro saluto a voi tutti, iscrivetevi, commentate dal narratore italiano.